Questa è storia, muri a secco, opere idraulico, qui c'erano terreni seminati, ci troviamo al parco San Leonardo, sotto la ponte San Leonardo, vediamo qui, guardate qui, una caverna aperta, vedete, bellissima. Andate sopra, ammappate le spine che ci stanno, sta ambrattate, sta ambrattate, adesso fanno mettere cartelli in capo e proseguo ad arrampicare, vabbè, questo è un muri a secco, guardate, questo è un muri a secco, ingegneria idraulica, ultra secolare, preistorica. Adentriamoci in mezzo a questa roccia, guardate, forse fanno entrare qui, sempre con precauzione, perché la montagna riserva sorpresi. Qui ci sono i muri, vedete, lo sta attento, ai piedi, all'amore. Se andiamo qui, oh, ammappato, e quindi, vediamo un po', sentiamo lo spine, ammappato.